Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre temi di attualità quelli che affronteremo, andiamo subito a vedere quello che è il primo tema, parleremo degli scontri a Pisa e Firenze, sia una mozione del Partito Democratico Italia Viva a Momento 5 Stelle respinta alla mozione di Fratelli d'Italia e Lega. Poi parleremo del coordinatore per il lavoro e la sicurezza, è stato il Presidente Mazzeo per l'Assemblea Legislativa della Conferenza dei Presidenti e poi saranno 38 nuovi tutori volontari per quanto riguarda i diritti all'infanzia sui minori e gli stranieri non accompagnati. Il primo argomento ci porta all'attualità di scontri di Pisa e Firenze, hanno caratterizzato i lavori del Consiglio regionale e si è concentrato su due mozioni presentate rispettivamente, una da Italia Viva, Partito Democratico Momento 5 Stelle, l'altra da Fratelli d'Italia e Lega. L'Aula ha approvato la prima a maggioranza, la seconda invece è stata rispinta, la prima quella approvata in merito alla ferma condanna di quanto è accaduto agli studenti di Pisa e Firenze in occasione delle manifestazioni, la seconda invece impegnava la Giunta a riaffermare che è fondamentale della democrazia prima di tutto rispetto delle regole e a ribadire il diritto a manifestare le proprie idee per tutti in ogni circostanza e forma e su ogni argomento all'interno di una cornice di legalità. Credo che era doveroso prendere posizione da parte del Consiglio regionale dopo i fatti inquietanti che sono accaduti a Pisa dove abbiamo assistito veramente un po' inorriditi, preoccupati e anche amareggiati nel vedere che dei ragazzi che manifestavano pacificamente, molti di loro minorenni, sono stati addirittura manganellati. È chiaro che noi vogliamo capire di chi è la responsabilità, se c'è stato un eccesso di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date. Questo lo facciamo anche a tutela di quei rappresentanti delle Forze dell'Ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere con rigore senza eccessi per tutelare la salute dei cittadini, la democrazia, la libertà di manifestare. Purtroppo quello che abbiamo visto invece in piazza a Pisa e anche a Firenze non apparteneva a questa categoria ma ci sono stati degli eccessi che sono stati oggetto di critica in primis del Presidente della Repubblica, le cui parole noi sottoscriviamo. I manganelli sono il fallimento probabilmente delle istituzioni, dei rettori della comunità cattolica, dello stesso sindaco di Pisa che ha sottolineato come quella città era ed è abituata a vedere altre cose. È un atto forte che condanna con fermezza quanto è successo a Pisa e a Firenze, la Toscana non è questo e quindi il diritto di manifestare, la libertà si esercita, non deve essere concessa e soprattutto non deve essere repressa con dei manganelli. Un atto violento che è stato in primis condannato dal Presidente della Repubblica e oggi arriva l'atto ufficiale e formale del Consiglio regionale della Toscana che condanna quanto è successo, prende distanza e chiede chiarezza. La Toscana è un'altra cosa, la Toscana è una terra di tolleranza, di libertà, di diritti e come tali ragazzi della nostra Regione hanno diritto e dovere di manifestare, di esprimere le proprie idee. Bene che il Consiglio regionale della Toscana abbia assunto questa posizione, dispiace perché magari si poteva creare un atto unitario, invece abbiamo visto un centrodestra arroccarsi su una difesa impossibile, difendere quanto è successo, non compete diciamo alle forze politiche da parte nostra, va anche la solidarietà ovviamente alle forze dell'ordine in generale per il lavoro che costantemente e quotidianamente svolgono, ma questo che è successo in Toscana il 23 febbraio è un errore grave e come tale andava denunciato e come tale andava condannato e preso la distanza da parte della Toscana. Trovare un testo comune da votare sarebbe stata forse una soluzione che avrebbe aiutato, contribuito a ricomporre un dibattito che si è sfilacciato durante il percorso, ma sicuramente il votare due mozioni è stata la plastica restituzione della divisione che c'è di vedute tra un centrodestra che ha una visione estremamente anch'essa giudicante da questo punto di vista, ma dalla parte opposta, e un centrosinistra che perlomeno ha provato a fare chiarezza, che è la cosa soprattutto che ha chiesto il Movimento 5 Stelle, la chiarezza, quindi diciamo che restituiamo anche alla società, ai toscani, questa fotografia, non perché si debba esprimere un giudizio, ma perché comunque si sappia che all'interno del Consiglio regionale ciò che è avvenuto a Pisa e Firenze non è certo caduto inosservato ed è qualcosa che ancora per molto tempo dovrà rimanere nel nostro dibattito proprio perché mette in pericolo forse anche le fondamenta del nostro lavoro stesso. Dopo i fatti di Pisa va detto che in questo Paese, ma in tutti i Paesi civili, chiunque ha diritto di manifestare il proprio pensiero, finché questo non travalica ovviamente la legge e il rispetto del prossimo, chi parla in vita sua ha organizzato decine di manifestazioni, ha partecipato a decine di manifestazioni e mi fa sorridere quando sento dire che in questo Paese non esiste il dissenso. In questo Paese il dissenso esiste, è garantito e fa sorridere che chi dice che in questo Paese non esiste il dissenso sono gli stessi che non hanno sprecato mezza parola per condannare invece chi manifesta prendendo un fantoccio con le sembianze del Presidente del Consiglio, impiccandolo a testa lì in giù e dandogli fuoco. Quello non è manifestare in maniera corretta. Quindi io mi auspicavo che oggi il Consiglio regionale dicesse questo, che tutti hanno diritto di manifestare, che tutti hanno il dovere di rispettare le regole e le leggi, anche chi manifesta, che se un poliziotto reagisce ad una provocazione in maniera sconsiderata e sproporzionata deve essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, cosa che sicuramente la polizia farà, che un manifestante che sputa in faccia un poliziotto non è un manifestante pacifico e lì per manifestare la propria idea. Fare un atto molto semplice dove insieme si metteva giù un atto che riprendeva la nota del Quirinale con le parole del Presidente Mattarella e questo avrebbe dato anche un senso importante in questa regione dove sono avvenuti questi fatti. Purtroppo il PD ha respinto queste proposte, vuole andare il voto, forte di una maggioranza, per mostrare muscoli ma soprattutto per continuare a strumentalizzare questi fatti e, come si è sentito in aula, a dare già delle sentenze e delle condanne quando in realtà ci sono delle indagini in corso e quindi credo che da un lato la Procura, da un lato il Ministero e quindi internamente le Forze dell'Ordine debbano procedere in maniera seria. Il tema più grande, oltre alla violenza di quelle manganellate che ha colpito ragazze e ragazzi inermi, a cui va la nostra vicinanza, il nostro fargli sentire che lo Stato, le istituzioni ci sono e che non è la violenza barbara con cui un gruppo di poliziotti li ha aggrediti e c'è qualcosa di diverso. Ed ecco perché è stato importante il Presidente Mattarella dicesse queste parole ed è per questo che mi auguro che la Presidente Meloni dica qualcosa e esprima vicinanza a quelle ragazze e a quei ragazzi. Parliamo dell'Assemblea plenaria della conferenza delle regioni delle province autonome che si è svolta nella sala consigliare del Palazzo del Pegaso, si è aperta con un minuto di silenzio ricordo delle vittime del cantiere di Via Mariti a Firenze. Un tema particolarmente sentito che ha portato per alto la nomina del Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo a coordinatore per lavoro e sicurezza della conferenza. E poi è stato istituito il nuovo coordinatore che è il Presidente del Consiglio regionale del Lazio. È stata una giornata importante, è una giornata che abbiamo deciso tutti insieme di partire dal ritordo delle vittime, dei feriti, di quella tragica vicenda che scuote la Toscana e il Paese. Scuote le sensibilità di ciascuno di noi. Abbiamo scelto di istituire per la prima volta un coordinamento all'interno della conferenza dedicato ai temi del lavoro, della sicurezza del lavoro, perché non si può più morire andando al lavoro. Il lavoro è dignità e noi abbiamo deciso di non voltarci dall'altra parte. Mi è stato chiesto la responsabilità di coordinare questo lavoro. Lo farò insieme a tutti gli altri Presidenti, pensando che finché anche solo una persona morirà sul luogo di lavoro, ognuno di noi deve sentirsi parte di quella responsabilità. È stata una giornata intensa. Auguri al nuovo e al nuovo eletto coordinatore, il Presidente Aurigemma della regione Lazio. Un augurio di buon lavoro e un grazie per quello che ha fatto al Presidente Ciambetti, Presidente del Veneto, ex coordinatore della conferenza. Oggi l'obiettivo di attualità, la qualità e la sicurezza sul lavoro è fondamentale per una nazione democratica, per un paese democratico. Proprio per dar voce e per dare risposte concrete abbiamo deciso proprio questa mattina di creare un coordinamento ad hoc per la qualità e la sicurezza sul lavoro. Anche se la competenza è di carattere nazionale, ci sono tanti temi da affrontare, come quello di poter incominciare a mettere un bollino di qualità sulle aziende che lavorano sul proprio territorio, che corrispondano a determinati criteri, requisiti, ma soprattutto tengano conto di qualsiasi tipo di sistema atto a prevenire incidenti. Noi purtroppo parliamo della sicurezza sul lavoro sempre post. Questo non fa onore, ci affidiamo sempre alla procura quando invece dovremmo affidarci a delle norme che siano in grado non di reprimere ma di prevenire incidenti come quelli accaduti qualche giorno fa qui a Firenze. Tre anni intensi, tre anni che hanno visto tutte le regioni collaborare per rafforzare il regionalismo italiano. L'abbiamo fatto in varie occasioni, anche in confronti con Camera e Senato, anche con interlocuzioni direttamente con il Presidente della Repubblica. Quindi veramente un lavoro intenso. E poi ognuno dei colleghi per le proprie competenze, sensibilità, per storia professionale o anche appunto istituzionale si è occupato di temi specifici, dall'anticorruzione all'antimafia, ai garanti dei diritti, all'Agicom, quindi molte cose di competenza dei consigli regionali e poi anche un coordinamento di attività legislative che ha visto veramente lavorare le assemblee legislative in maniera assolutamente corale. Specialmente, ripeto, per rafforzare il regionalismo italiano, per dare la giusta dignità alle più alte istituzioni democratiche che ci sono in ogni singola regione. La Toscana ha 38 nuovi tutori volontari per minori e stranieri non accompagnati. Sono persone che peraltro hanno maturato la scelta e sostenuto la necessaria selezione e formazione. L'evento si è tenuto il 20 di febbraio all'interno del Palazzo del Pegaso insieme al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Camilla Bianchi. Noi abbiamo bisogno di nuovi tutori volontari di minori non accompagnati perché la Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte, una terra che sa accogliere, una terra che sa sostenere anche chi soffre di più. Chiudiamo gli occhi e mettiamoci in quelle ragazze, in quei ragazzi che arrivano nel nostro Paese, che arrivano nella nostra Toscana, a volte non conoscono la nostra lingua, hanno bisogno di vicinanza, hanno bisogno di affetto e sapere che oggi 38 cittadini e cittadini toscani si rendono disponibili a sostenerli, a supportarli, mi dà sempre di più il senso di quanto è grande il cuore toscano. Il ruolo dei tutori e tutrici volontari rappresenta quindi un significativo esempio di cittadinanza attiva e dà il segno di un impegno sociale che rende le nostre comunità più responsabili, più civili e più inclusive. I tutori volontari sono cittadine e cittadini che a titolo gratuito e volontario presteranno il loro servizio in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento rispetto alle necessità delle persone di minorità straniere non accompagnate che come sappiamo vivono una condizione di particolare vulnerabilità. Sono i cosiddetti vulnerabili tra i vulnerabili perché persone di minorità, perché straniere e perché sole. È difficile anche tenere la contabilità in termine bruttissimo dei minori stranieri perché molti arrivano e se ne vanno. Non è detto che chi arriva rimanga, quindi molti sono di passaggio. c'è anche il problema del ricongiungimento familiare con parenti che magari non sono qui in Italia e quindi anche questo rende difficile il conteggio esatto delle reali presenze. Magari sono presenze momentanee di un giorno o due giorni e poi dopo. Quindi a volte facciamo delle nomine dei tutori che poi si ritrovano magari poco dopo senza il ragazzo o la ragazza da tutelare. E si conclude anche il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni e gli aggiornamenti www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni. Dentro il Consiglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.